Dopo il successo di The Circle, che cosa vedremo, che cosa ci regalerete per questa seconda tranche del 2017? Vi regaleremo prodotto diverso e diversificato. Partiremo la settimana prima di Halloween con un'animation per la famiglia, che si chiama Monster Family. Una storia divertente, che ha vari livelli di lettura, come dovrebbe essere sempre per i film di animazione, o almeno come è per i grandi film di animazione, a cui noi ambiamo in qualche modo. È la storia di una famiglia tradizionale, una mamma, un papà, una figlia adolescente, un figlio più piccolo, un po' di infelicità, quella in minuscola, quella quotidiana, quella di routine, di insoddisfazione. Il giorno di Halloween ricevono un incantesimo da una strega, che li trasforma in vampiro, Frankenstein, la mummia e l'uomo lupo. E qual è il gioco? Il gioco è fino a che non tornate felici, non tornate umani. Ora, nella sua semplicità e nella sua banalità, in realtà è un messaggio importante, cioè un po' della serie, se vuoi essere felice devi esserlo un po' di prepotenza, cioè devi un po' forzare la mano. E quindi la speranza qual è? È che accanto a dinamiche tipicamente kids, però poi ci sia anche una lettura un pochino più adulta. Uscirà ad ottobre. Poi, sempre ad ottobre, uscirà Love in Vincent. Love in Vincent è un film completamente diverso, animazione unica, generata da 60.000 dipinti degli artisti dell'Accademia di Van Gogh, una cosa produttivamente mai fatta. Una storia molto coinvolgente. Noi abbiamo visto il film, eppure essendo io uno di quelli un pochino più scettici fra tutti noi, perché è un film particolare, in realtà il film è molto bello ed emozionante, perché al di là dell'unicità, dell'esperienza visiva, c'è anche il fatto che il film racconta gli ultimi giorni di vita di Van Gogh, del suo suicidio, del non aspettarsi il suo suicidio, perché stranamente lui si uccise proprio in un periodo in cui invece apparentemente stava bene, non aveva grandi problemi, essendo lui comunque una persona malata, psicologicamente malata. In realtà, paradossalmente, lui si uccise, e il grande stupore delle persone intorno a lui era anche legato al fatto di dire ma come, proprio adesso che stava così bene, ha preso una decisione di questo tipo. È un film molto bello, molto bello, che quindi insomma una storia bella, con una tecnica di animazione assolutamente incredibile e unica. Abbiamo detto di Monster Family, di Loving Vincent, e poi cito anche sempre autunno il mistero di Donald C., che è il film di James Marsh con Rachel Weisz e Colin Firth, storia vera di un giovane, non neanche troppo giovane, di un imprenditore inglese che decide, in un momento difficile della sua attività commerciale, ufficialmente per poter vincere il Montepremi. Ma poi in realtà, anche per una serie di motivazioni più personali, decide di partecipare a una regata in solitaria, con il giro del mondo in solitaria, in barca, che si faceva tutti gli anni allora in Gran Bretagna, e quindi ha molto peso, è una roba prestigiosa, pur essendo lui un appassionato di vela, sì, ma non un professionista, quindi affrontando già in partenza un'impresa estremamente difficile. Ed è una storia molto bella e molto toccante, perché ovviamente lui questa cosa non la fa tanto solo per i soldi, ma la fa per un bisogno suo di autoaffermazione. ed è anche una storia avvolta nel mistero, perché non anticipo la fine, anche se poi essendo una storia vera, uno se vuole la va a scoprire con facilità alla fine. Rimane appunto un mistero ed è estremamente interessante, come dire, il personaggio del protagonista che lavora su piani diversi, in alcuni momenti è in realtà un grande truffatore, e in altri momenti è una persona, un grande sognatore che sta facendo forse qualcosa di enorme rispetto alle reali possibilità umane. Ed è un film molto bello, James Marsh, Colin Firth, Rachel Weisz, quindi insomma, parliamo anche di premi Oscar. Io per il 2000, direi che per la seconda parte del 2017 questi qui sono i tre titoli più significativi, insomma.